Un tavolo di crisi regionale che coinvolga maggioranza e minoranza sul caro bolletta d'energia. Chiede questo il senatore Michele Fina come segretario regionale del PD. Le risorse che possono essere messe in campo, secondo il consigliere regionale Silvio Paolucci, sono circa 200 milioni di euro utilizzabili dal bilancio della Regione. 100 milioni circa disponibili dal 2023 destinabili al sostegno alle famiglie, altri 100 alle imprese. I fondi sarebbero reperibili dai trasferimenti europei o da anticipazione dell'accordo provenzano dei 127 milioni di euro che non hanno una destinazione giuridica vincolante, dice Paolucci. Questa somma risulterebbe essere il 10% dei 2 miliardi di euro dei costi legati al caro energia quantificati per l'Abruzzo. Chiediamo alla Regione di fare quello che hanno fatto altre Regioni e cioè fare la sua parte, mettere in campo risorse per aiutare imprese e famiglie, anche alla luce dell'intervento molto significativo che adesso ha fatto l'Europa, anche grazie al governo Draghi, alla sua autorevolezza, alla sua forza. Mentre invece Marsilio pensa a fare un po' di giochi politici, ha messo in campo questa proposta di legge elettorale regionale di cui non mi pare si sentisse particolare bisogno, non troviamo nessun cittadino che ce lo chiede, mentre invece lui ha queste priorità perché innanzitutto è un capo politico, probabilmente è preoccupato di non riuscire ad essere competitivo nelle prossime elezioni regionali con l'attuale legge e prova a mescolare le carte e le regole. Parla di collegio unico regionale per battere i campanilismi, mi aspetto a questo punto Fratelli d'Italia faccia una proposta elettorale nazionale perché i parlamentari non siano eletti in circoscrizioni regionali o subregionali ma siano votati in tutta Italia perché se questa è la logica, d'altra parte non a caso loro hanno eletto catapultati non abruzzesi in Abruzzo perché l'idea che ci sia un legame territoriale che non impedisce affatto di occuparsi di problemi generali, io sono un parlamentare e mi occuperò anche dell'Abruzzo e non è alternativo occuparsi dell'Italia, insomma questa cosa lo disturba. Abbiamo depositato con il nostro gruppo regionale delle proposte che può fare la regione e anche delle risorse a cui può attingere, concretamente gli chiediamo quello che stiamo chiedendo a livello nazionale, facciamo un tavolo di crisi sul carobollette, facciamolo insieme maggioranza opposizione, lavoriamo insieme come si è fatto in pandemia a livello nazionale, noi abbiamo chiesto di farlo anche a livello regionale, ma Marsiglia ha voluto fare da solo, adesso dimostri che è interessato innanzitutto occuparsi dei problemi dei cittadini, faccia un tavolo di crisi regionale, noi ci siederemo, porteremo le nostre proposte e poi le condivideremo.